ciao ragazzi ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video oggi ho con me il berrettino ferrari jedok con scritto ciao bel comunque a parte questo sono super bardato perché c'è freddissimo infatti c'è un sacco di nebbia e visto che l'ultima volta avevo detto che mi ero trovato un sacco bene qui all mx park denore ci sono ritornato quindi adesso visto che è presto sono arrivato molto presto voglio andare a vedere la pista perché c'è un sacco di nebbia è un po spettrale devo dire la verità comunque parlando con i gestori mi sono reso conto che la pista non è lunga come credevo ovvero è lunga 1600 metri circa quindi più corta insomma di quello che pensavo adesso andiamo in un punto oddio interessante eccoci qua ci sono 0 gradi quindi c'è freddissimo adesso ve la mostro un po ok quindi non si vede niente dunque non entrerò subito adesso mi cambio con calma scarico la moto poi faccio un pochino di riscaldamento e poi dopo vado dentro in pista a farmi il primo turno e speriamo che la pista l'abbiano fresata penso di sì ci vediamo dentro ok 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 Grazie a tutti. 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 Nessun problema però, piccola pausa e si rientra. Grazie a tutti. 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 Se c'è un po' se c'è qualcuno che gira. C'è una persona dentro, c'è un po' di strada per arrivare qui. Adesso vi mostro un po'. Eccoci qua. Eccoci qua. Due riprese, siamo riusciti a farle, adesso mi cambio e via con un bel turno. Speriamo che si scivoli. Speriamo che si scivoli. Speriamo che si scivoli leggermente meno anche se non mi aspetto granché. Speriamo che si scivoli. Speriamo che si scivoli. Speriamo che si scivoli. Speriamo che si scivoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.